Il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, bentrovato. Grazie per l'invito, buon pomeriggio. E con noi anche Alessandro Barbera, il collega della stampa. Ciao Alessandro. Bagnai, la rimozione di Arcuri è stata rimendicata come una vittoria anche da voi della Lega. Lei ha rituitato Salvini che parlava di rimosso il commissario Arcuri al suo posto disegnato il generale di corpo d'armata Figliuolo. Grazie Presidente, missione compiuta, utilizzando quasi i termini militari. Comunque è una cosa che vi rende felici, nel senso è la scelta giusta. Ma ci rende felici, riteniamo che sia la scelta giusta. Diciamo che è l'altra metà del ragionamento che ha svolto il collega Marattin. Il collega Marattin ha sottolineato che è importante che per una missione di questo tipo ci sia un esperto di logistica ai massimi livelli e naturalmente le forze armate per la natura della missione che devono compiere posseggono queste competenze. Noi, diciamo così, avevamo ravvisato alcuni profili di inopportunità e di non eccessivo successo. Non mi permetto di dire non eccessiva competenza. Può darsi che sia mancata la fortuna e non il valore. Ma comunque nei risultati dell'opera sempre mancò la fortuna e non il valore visto che siamo in questo ambito militaresco. insomma ricorderete che è una lapide famosa. Possiamo mettere questa lapide anche sul commissario Arcuri e voltare pagina adesso al netto dei toni che devono comunque sempre essere rispettosi. Secondo me è stato fatto un progresso. Secondo me lei Arcuri andrebbe, diciamo, anche il suo ruolo in Invitaglia andrebbe rivisto? Ma quello assolutamente non spetta a me come rappresentante economico di un partito. Sono decisioni che incombono al ministro dell'economia che saprà lui come gestire l'importante e delicata partita che si apre adesso sugli assetti proprietari delle varie partecipate pubbliche. Questo mi sembra un lato, diciamo, minore della vicenda anche se è in dubbio che in termini di immagine qualche perplessità suppongo che possa suscitarla nel pubblico. Ricordiamo che Invitaglia gioca molte delle partite future che vi abbiamo raccontato e che vi stiamo per raccontare una su tutte per esempio quella dell'Ilva. Marattin, lei se l'aspettava di... Noi abbiamo diviso prima della puntata vi facevo notare come voi foste in due studi diversi due politici presenti, quindi Bagnai e lei per questioni Covid nei nostri due studi di Roma Montecitorio e lei con una battuta indovinata ha detto non riuscirete a dividere ciò che invece Draghi ha unito. Era una cosa che si aspettava un giorno di essere invitato qua con un suo alleato di maggioranza e quell'alleato di maggioranza fosse Bagnai. No, ma non sta su di me l'onere di dimostrare di aver cambiato idea, nel senso che con tutto l'affetto e la stima e il rispetto per il collega Bagnai, insomma, non ero io quello che per anni è andato in giro a dire tra i tecnocrati, la BCE, l'euro, eccetera. Quindi, insomma, premesso che in politica è sempre giusto e opportuno cambiare idea o anche evolvere il proprio pensiero diciamo che fra noi due quello che ha fatto un'evoluzione nel proprio pensiero non sono certamente io ma gli do il benvenuto sulle posizioni, diciamo, europeiste d'Italia viva. Ricambio il benvenuto al collega Maratin nel fronte ampio e crescente dei nemici dell'austerità mentre credo che sia difficile trovare una mia dichiarazione del tipo Draghi, Tecnocrate, Bilderberg, Brutto insomma, di quelle che abbondano sui social Napalm 57, Bazooka 121 e simili commentatori diciamo sono molto prodighi tipo Borghi anche, tipo Claudio Borghi credo invece che esistano molte, 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 molte dichiarazioni insomma, di colleghi di altre forze politiche a favore delle politiche di rigore si chiamavano così quando andavano di moda ora non vanno più di moda quindi, come dire, ognuno di noi pensa di non aver cambiato siamo come due rette parallele che all'infinito della politica si sono incontrate ecco, mettiamola così convergenze parallele è sempre politica era la democrazia cristiana è questa siamo tornati alla prima repubblica queste formule così un po' ermetiche che però caratterizzavano una cosa il fatto che si capiva e si torna a capire che bisogna parlarsi e se posso fulminiamente devo dire che fra i vantaggi di questo inizio di era diciamo così poi se sarà un era o se sarà un anno insomma Draghi senz'altro c'è questo clima più pacificato in Parlamento che devo dire male non fa come pure male non fa il non assistere al balletto delle bozze dei diciamo dei chigi leak diciamo questo ce lo siamo lasciato dentro le spalle e vi assicuro senza alcun rimpianto da parte mia credo neanche da parte dell'onorevole Marattini sì sì Barbera va letto prima non deve aspettare tipo le dieci di sera per scrivere l'ultima parte del pezzo dipende dai giorni dipende dai giorni Bagnani il decreto ristori qui in questo penso che si dica cambia nome ora pare che si chiamerà decreto sostegno poi dopo anche lì magari inizieremo a numerarli ci auguriamo non succeda ma purtroppo è plausibile che ne dovremmo mettere in piedi qualcun altro quanto è importante che lo sgongelamento avvenga il prima possibile e diciamo rispetto anche a quanto fatto precedentemente cosa pensa di questo cambio di passo plausibile diciamo di questo governo nel senso è arrivato il momento per iniziare a parlare invece che di ristori di risarcimento ma allora intanto io mi attengo a quello che ho detto prima e quindi avendolo dato il fatto che non circolano anticipazioni non darò anticipazioni se non quelle che sono già uscite infatti sto chiedendo a tutte e due cose di buonsenso e entrambi diciamo una linea appartenente a due partiti distinti però diciamo con entrambi degli importanti ruoli all'interno del governo non voi due ma vostri colleghi due partiti distinti ma credo abbastanza vicini nell'idea che la libertà di iniziativa economica sia un motore della crescita e una serie di altri valori allora il cambio di passo naturalmente lo vedremo quando sarà sulla carta però già da ora le anticipazioni hanno messo in evidenza alcuni progressi senz'altro positivi per esempio il fatto di sembra svincolare l'idoneità al ristoro o per meglio dire al rimborso di parte dei costi non è più vincolata al fatturato di un singolo mese ma pare che sia parametrata sulla caduta di fatturato di un intero anno quindi del 2020 rispetto al 2019 questa sembra una cosa di buonsenso il fatto di aver mandato in pensione i codici a Teco si dice che verrà fatto questa sarebbe senz'altro una cosa di buonsenso ci sono appunto diversi spunti positivi c'è un tema ci sono anche naturalmente dei nodi che devono ancora essere sciolti e proprio per questo non starei diciamo a disturbare chi ci sta lavorando ma si possono comunque menzionare per esempio è stata disposta e lo abbiamo visto la proroga delle scadenze delle rate della rottamazione Ter ricordo che fra il primo e l'otto marzo quindi in questa settimana si sarebbero dovute pagare 4 più 1 rate della rottamazione Ter ecco questa cosa in questo momento evidentemente è impossibile ed è stata disposta una proroga non è chiaro che cosa succederà quando si arriverà alla fine di questa ulteriore proroga cioè se si dovranno a quel punto dare 5 o 6 rate tutte insieme oppure se si riprenderà un pagamento dilazionato questo per esempio è un punto che credo debba ancora essere sciolto però attualmente mi sembra di poter dire che si comincia a vedere un cambio di passo poi sono i cittadini che devono dirlo perché i soldi devono arrivare a loro un grosso problema che abbiamo avuto con il precedente governo e penso di poterlo dire con il consenso almeno diciamo così almeno con un voto di astensione non con un voto contrario del collega Marattini il grosso problema è che abbiamo speso in teoria tanti soldi ma che in pratica non sono arrivati ai cittadini per il noto annoso problema dei decretti attuativi che poi non venivano fatti quindi questo speriamo che il passo cambi soprattutto rispetto a questa cosa cioè all'efficacia delle misure peraltro mi sembra di aver capito che il decreto sostegno avrà anche delle dimensioni abbastanza contenute come numero di articoli sono abbastanza fiducioso nel fatto che sarà scritto meglio dei decreti precedenti per tutta una serie di motivi che adesso qui non sto a evidenziare e quindi penso che questo favore la trasmissione delle risorse all'economia la rapidità di trasmissione delle risorse è fondamentale perché i cittadini non possono più aspettare e per far contento il collega Marattin gli evidenzio che sono sempre tuttora critico nei riguardi di un'Europa che tutto sommato le sue risorse ancora non le ha fatte arrivare quest'anno del recovery fund avremo 17 miliardi beh insomma tocca dirgli per cosa usiamo diciamo che rispetto all'entità delle risorse messe in campo qui a casa nostra è poco e tardi questo ce lo possiamo dire poi per carità Marattin prego no no lo diceva già lei cioè quello non è un bonifico di Natale cioè il recovery fund funziona in un altro modo i stati devono presentare un piano che accoppi riforme a spesa e poi ci danno i soldi quindi i ritardi sono stati e sono anche dovuti al fatto che i stati non solo noi ma noi in particolare siamo molto in ritardo nel dire come li vogliamo usare in ossequio ai criteri comuni decisi dall'Europa perché sono soldi comuni non sono soldi che arrivano da Babbo Natale né un regalo da parte di qualcuno si potevano decidere anche altri criteri onestamente data l'eccezionalità della situazione comunque quello che ha detto il collega Marattin formalmente è corretto poi sostanzialmente giudicheranno i cittadini lei diceva l'anticipo potevano darci anche un anticipo maggiore secondo lei ma guardi sul tema dell'anticipo ecco questa è una domanda interessante perché è un risvolto tecnico l'anticipo è piccolo anche perché la commissione si è resa conto che aveva difficoltà a collocare sui mercati la quantità di titoli diciamo così necessaria per raccogliere i fondi da distribuire poi agli stati quindi qui c'è un altro tema che magari poi affronteremo con più calma che è quello dell'intera architettura finanziaria dell'operazione che secondo me presenta comunque dei punti di criticità e fra l'altro lascia intendere che il ruolo della BCE sarà sempre dominante in tutta questa fase di ripresa dell'economia perché se non li prende il mercato per esempio le dichiarazioni di oggi del dottor Panetta sulla necessità di continuare con il programma di acquisti per tenere sotto controllo la curva dei tassi è la BCE il vero player diciamo di questa fase è a lei che dobbiamo guardare sperando che mantenga questo atteggiamento espansivo Bagnai l'Europa punterebbe a uno spezzatino che è quello che citava anche Maratin che possibilità ha Draghi secondo lei di convincere che invece il progetto ITA che è solo in parte uno spezzatino è quello buono oppure è la volta che l'Europa ha ragione può anche capitare che lei dica che l'Europa ha ragione ma guardi non entro nel nel merito di quale delle due poi se vuole lo faccio di quale delle due ipotesi sia preferibile ma qui sul metodo c'è una cosa da dire forse oggi più che mai chi volesse potrebbe contestare all'Europa il fatto di avere sempre ragione perché dico questo perché è di questa mattina la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dà torto alla signora Festager cioè al commissario alla concorrenza di questa commissione della commissione precedente su un caso che fece estremamente male al sistema Italia cioè quello degli presunti dalla commissaria Festager aiuti di Stato a Banca Tercas che poi si intersecò in modo perverso con la vicenda delle quattro banche portando come sapete la liquidazione coatta amministrativa di Etruria Carife Marche e Carichietti che causò un crollo del 60% del comparto bancario in borsa causò un suicidio causò fallimenti l'Europa sei anni dopo averci indicato la direzione sbagliata ammette di averlo fatto poi attenzione a me non piace dire l'Europa a me piace dire l'Unione Europea se si parla del progetto politico in questo caso è stata la Corte di Giustizia il continente in sé non ha nessuna colpa ogni tanto per semplificare sì sì assolutamente l'Unione Europea lei lo sa che io non sono un antartidista come non sono un europeista come non sono l'africanista già c'ha più senso è quello che studia la civiltà dell'Africa adesso torniamo sul pezzo il pezzo è che la seconda istanza il tribunale di secondo grado la Corte di Giustizia ha dato torto alla commissaria Festaga allora io dico che qui bisognerebbe su questo intavolare una riflessione non lo faccio per divagare e la riflessione è se vengono fatte delle scelte sbagliate a questo livello i danni chi li paga noi già due anni fa avevamo presentato una mozione in aula per diciamo indirizzare il governo Conte verso una quantificazione di questo danno ma su Alitalia io ritengo che sia su Alitalia però diciamo adesso c'è un consiglio europeo ed è una questione riguardante l'antitrust di nuovo però la stragrande maggioranza degli errori precedenti ce li siamo fatti in house senza andare a chiedere consigli indubbiamente ci sono state anche delle scelte aziendali ma qui il più competente nonché nonché diciamo automunito di linea politica è il dottor Barbera perché anch'io come è ben noto sono responsabile economia e non irresponsabile infrastrutture e trasporti del mio partito ma non mi sottraggo sì le considerazioni di Maratin le capisco e in parte le condivido d'altra parte dobbiamo anche chiederci diciamo analizzare a tutto tondo le conseguenze per il sistema paese di un paese come l'Italia che è caratterizzato intanto da una diciamo continuità territoriale piuttosto problematica e poi dal fatto di essere una delle principali mete turistiche mondiali di non avere un vettore nazionale in grado di operare certo che deve operare in condizioni di economicità e su questo si stanno pensando si stanno pensando diverse soluzioni che naturalmente passano per la gestione del personale per l'avvio del personale diciamo verso nuove situazioni con gli strumenti che sono che sono disponibili torneremo a parlarne ci sono vari torneremo a parlarne torneremo a parlarne anche perché suppongo che prima o poi avremo una proposta strutturata che in questo momento non c'è esatto poi ci sono i ministeri competenti che sono sicuramente trasporti emise e lavoro perché tutti e tre ovviamente vengono toccati da queste cose abbiamo invitato sia il ministri che il viceministri dei sottosegretari Pagnai nella vostra idea di riforma del fisco si può prescindere dalla flat tax ma intanto mi faccio esprimere apprezzamento per il lavoro che il presidente Marattin e il presidente D'Alfonso lato senato stanno portando avanti se posso con una battuta io votai contro la riforma Renzi ma quello che ci ha appena detto il collega Marattin è che il bicameralismo funziona quando è monocameralismo cioè quando le commissioni sono riunite ma insomma adesso lasciamo stare questa strada qui guardi mettiamola così se vogliamo se vogliamo mettere una red line diciamo che abbia un senso e che sia comprensibile per tutti una linea rossa da non trepassare la nostra idea è che una riforma fiscale ha senso se riesce ad abbassare la pressione fiscale e questo diciamo in qualche modo è la prima dicotomia che l'elenco molto dettagliato in 13 punti che ci ha sottoposto il collega Marattin pone cioè vogliamo un fisco che sia più redistributivo o un fisco che aiuti la crescita noi siamo per un fisco che aiuti la crescita e secondo noi per aiutare la crescita il carico fiscale deve essere deve essere alleggerito questo è un dato di fatto dopodiché il clima è di concordia anche perché siamo appunto nella luna di miele vediamo che cosa succederà andando a lavorare uno per uno questi 13 punti che i presidenti Marattin e D'Alfonso hanno sottoposto all'attenzione delle commissioni noi riteniamo che l'esperimento di Flat Tax così come lo avevamo congegnato stava funzionando sarebbe potuto andare avanti dopodiché siamo ovviamente pronti a confrontarci nel merito all'attenzione